321 casi di covid in quattro giorni triplicati contagi e ricoveri. Nuovo DPCM e i sindaci non chiuderanno strade a rischio assembramento. Scoperto 27enne che vive in Marocco ma riscuote il reddito di cittadinanza a Pesaro. Musica più forte del covid via i concerti della Hunderkammer Orchestra. Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale come di consueto in questa prima edizione delle 19.40 in replica alle 20.40 e 22. Oggi è giovedì 22 ottobre, apriamo questa edizione aggiornando i dati sul coronavirus che purtroppo continuano ad aumentare con la sanità di regione e comuni pronta a nuove misure di contenimento. Vediamo allora i numeri e i prossimi sviluppi in questo primo servizio. 321 nuovi casi di contagio al coronavirus nelle Marche nelle ultime 24 ore. Un numero enorme, un numero che nell'arco di una sola giornata non si era mai visto da inizio pandemia come mai visto è il numero di tamponi effettuati dal servizio sanità nella regione Marche che in un giorno ha aumentato la capacità di test fino a 3.776 tamponi, 1.707 nel percorso nuove diagnosi e 2.069 nel percorso guariti. I positivi sono 321 tutti nel percorso nuove diagnosi, il che significa che la percentuale di contagiati è ora del 18,8 per cento, ovvero quasi un tampone positivo su 5. Un dato in crescita costante rispetto al 15,2 per cento di ieri e il 9,7 per cento di martedì. Dei 321 casi 52 sono quelli sintomatici. La provincia di Peso Rubino registra 40 casi, più del triplo a Macerata che ne conta 122. Nell'Anconetano 76 casi, nel Fermano 58, nell'Ascolano 23. Aumentano i numeri di tamponi e si conta ora di raddoppiarli con l'utilizzo dei drive point. Sabato riaprirà quello di strada dei cacciatori. Ieri è stato inaugurato un altro test drive a Pian di Meleto per servire una zona insensibile rialzo di contagi fra Lunano, Sasso Corvaro, Frontino e la stessa Pian di Meleto. Subito cento i test effettuati con monitoraggio alto nel tracciare i contatti avvenuti in ambito scolastico. Intanto tornano a popolarsi le terapie intensive dove ci sono 20 pazienti gravi nelle Marche per un dato triplicatosi in pochi giorni. E torna così pressante il problema dei posti letto con il nuovo assessore regionale Filippo Salta Martini che ha ufficialmente riaperto il Covid Hospital di Civitanova e purtroppo tornano anche i decessi. Ieri è morto un uomo di 71 anni di Loreto contagiato da Covid-19 che presentava un quadro clinico di patologie pregresse. E' la 998esima vittima marchigiana di questa pandemia. Tutti i sindaci della provincia di Pesaro Rubino sono stati convocati oggi in videoconferenza dal prefetto Vittorio Lapolla per esaminare le possibilità che il nuovo DPCM dà ai comuni in tema di chiusure delle zone sensibili all'assembramento. Allora ascoltiamo su questo argomento l'appello che il sindaco di Pesaro Matteo Ricci rivolge ai cittadini. Appena finito il Comitato di Sicurezza in Prefettura, la parola d'ordine è ancora stiamo sparsi. Evitiamo assembramenti, mascherina sempre, obbligatoriamente, scarichiamo l'app Immuni che è importantissima e laviamoci le mani. I casi a Pesaro ancora sono bassi ma stanno aumentando e quindi dobbiamo aumentare il livello di guardia e ho chiesto al prefetto di fare controlli serrati in tutti i luoghi sensibili dove si creano aggregazioni. Davanti alle scuole superiori, all'ingresso e all'uscita, comprese le fermate del tram, nei luoghi del tempo libero del pomeriggio, penso alla pista del Pantrek e nei luoghi della Movida nel weekend, via Flaminia, via Le Trieste, via Cavour in particolar modo. Non chiuderemo strade e vie perché non ce n'è la necessità ma faremo controlli molto stringenti e faremo molte salate a tutti coloro che non rispettano le regole. Quindi massima intransigenza, massima responsabilità, avremo un autunno difficile, dobbiamo tutti collaborare. Ed ora una importante notizia di cronaca, infatti in questo prossimo servizio vedremo come la Guardia di Finanza di Pesaro continui a smascherare furbetti che riscuotono indebitamente il reddito di cittadinanza. Un altro furbetto del reddito di cittadinanza è stato smascherato dalla Guardia di Finanza di Pesaro. Questa volta ad essere scoperto dalle fiamme gialle è stato un 27enne che nonostante fosse formalmente residente all'estero dal settembre 2018 ha inoltrato la domanda per il rilascio del sussidio dichiarando di abitare nel pesarese da almeno due anni. Con questa dichiarazione fasulla è riuscito a mettersi in tasca 7.500 euro di reddito di cittadinanza. I controlli delle fiamme gialle non solo hanno appurato la falsa attestazione della residenza e del soggiorno in Italia ma hanno pure riscontrato come il 27enne in questione risultasse irreperibile dal 2014 dal luogo di residenza e che dal 3 settembre del 2018 risulta iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero in quanto si è trasferito in Marocco. Il furbetto è stato subito segnalato all'autorità giudiziaria per aver indebitamente percepito erogazione ai danni dello Stato ed è anche stato segnalato all'Inps per la revoca del sussidio e per il recupero dei 7.500 euro. Per la guardia di finanza si tratta di un'altra appropriazione in debita destinata alle fasce più deboli smascherata a due settimane dall'episodio di un cittadino di Vallefoglia che si era messo in tasca 12.000 euro di reddito di cittadinanza ma si era dimenticato di presentare nella dichiarazione Nisee 170.000 euro di fortunate vincite al gioco online nel giro di due anni. Attenzione ai furbetti, attenzione alta delle fiamme gialle anche nella lotta all'abusivismo commerciale, argomento che ieri è stato oggetto di confronti in Confcommercio fra il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza Enrico Blandini e il direttore provinciale dell'Associazione di Categoria del Commercio, Americo Varotti. Ed ora ci spostiamo a Fanno dove continua la battaglia contro la cosiddetta variante di Gimarra. Il Movimento 5 Stelle ha ribadito la sua contrarietà verso la nuova strada voluta dal Comune e ha anche rilanciato il suo progetto alternativo, cioè la realizzazione di una circonvallazione esterna. Vediamo tutto in questo servizio di Simone Celli. Strada della discordia, sempre più una questione politica. La variante di Gimarra continua a far parlare di sé e non soltanto per la guerrita battaglia messa in campo dal Comitato contrario alla sua realizzazione. A farsi sempre più decisa è anche l'opposizione al progetto da parte del Movimento 5 Stelle fanese, che dopo aver raccolto anche la bocciatura del senatore pentastellato Mauro Coltorti, in questi giorni ha ribadito il suo no verso una strada che nascerebbe per alleggerire il traffico verso Pesaro, ma che di fatto non farebbe che convogliare le auto sulla statale. Tre anni fa il sindaco Seri e il sindaco di Pesaro Matteo Ricci avevano firmato un protocollo di intesa in cui tra gli obiettivi c'era quello di collegare le opere compensative di Fano con gli interquartieri di Pesaro o all'altezza di Muraglia come si riuscirebbe a fare con l'importo di 20 milioni oppure fino all'altezza di Santa Veneranda come si potrebbe fare utilizzando magari le risorse che verranno a breve dall'Europa. Quindi da parte della città di Pesaro ci sarebbe stata tutta la disponibilità a fare un ragionamento di questo tipo, ma il Comune di Fano ha scelto per la via più breve, la via più facile, ma sicuramente la strada meno vantaggiosa e meno utile e anzi più dannosa per la cittadinanza. Lo Stato ha stanziato 20 milioni di euro per la Regione Marche che li ha girati al Comune di Fano, ma il Comune di Fano ha deciso di sprecarli per la variante di Gimarra che riporta tutto il traffico sulla statale adriatica, quindi completamente inutile e dannosa perché sbanca le colline più belle di Fano senza risolvere alcun problema perché non ha assolutamente il pregio di liberare la città dal traffico, ma si limita a spostare i flussi all'interno della città e addirittura rafforzerebbe il ruolo degli interquartieri di Fano come circonvallazione, un ruolo che però non le è congeniale perché l'interquartieri è troppo interna alla città. I 5 Stelle hanno ricordato quella che sarebbe stata, secondo loro, la soluzione ideale, vale a dire la realizzazione di una vera e propria circonvallazione esterna che, a detta dei pentastellati, sarebbe costata meno e avrebbe risolto davvero il problema della viabilità. La nostra proposta era molto diversa perché innanzitutto non consisteva nel buttare 20 milioni per un tratto di strada di 3,5 km ma avrebbe dato uno sbocco sia a nord ma anche a sud, quindi alle frazioni di Fano sud, alle opere compensative. Opere compensative che attualmente sono inadeguate, sono irrazionali e quindi sono poco utilizzate dai fanesi e in generale dagli utenti ma appunto avendo degli sbocchi sia verso Pesaro sia verso sud invece potrebbero acquisire un senso di circonvallazione esterna alla città per drenare il traffico di attraversamento da Fano e allontanarlo veramente dal centro abitato e dalla cinta muraria. Questa proposta costava, secondo le stime fatte dalla stessa amministrazione comunale, molto meno della variante di Gimarra, costava 7,7 milioni per la parte nord, secondo le nostre stime con 20 milioni avremmo risolto quindi sia il collegamento verso nord sia il collegamento verso sud. Solo a seguito della realizzazione di una vera circonvallazione esterna si sarebbe poi potuto completare il tracciato dell'intero quartiere fanese appunto a seguito dell'alleggerimento dei flussi che sarebbero stati drenati dalla circonvallazione. Ed ora il consueto spazio dedicato alle vostre segnalazioni, nel prossimo servizio vi mostriamo un dissesso stradale segnalato da alcuni residenti di Osteria Nuova nel territorio comunale di Montelabate. Ci troviamo in via Redi Puglia nel territorio comunale di Montelabate in un tratto stradale che si collega con il comune di Tavuglia. Qui in via Redi Puglia e in via Montegrappa i residenti, in particolare quelli della frazione di Osteria Nuova, lamentano un lavoro fatto a metà. Ci troviamo infatti proprio nel punto stradale in cui cambia il lavoro di asfaltatura, un asfalto perfetto fino al punto in cui ci troviamo, una situazione molto diversa nel tratto che prosegue in salita. Hanno fatto un intervento, il comune di Montelabate ha fatto asfaltare 4-500 metri in un lato via Redi Puglia e 4-500 metri in via Montegrappa all'inizio del paese. Poi tutto il resto, saranno un chilometro, un chilometro e mezzo, è rimasto tale quale con le buche profonde anche 20-30 centimetri. È una situazione di disagio ma anche di pericolo? Sì, perché anche mio suocere per esempio è due anni che non prende più neanche il motorino per paura di cadute, di prendere qualche buca e di cadere, insomma, di farsi male. Voi avete anche, diciamo, segnalato la cosa al comune? Sì, abbiamo fatto un reclamo sul sito ufficiale lì del comune di Montelabate a fine 2019 e ci avevano risposto verso febbraio-marzo che era prevista l'asfaltatura. Noi, dopodiché, siamo rimasti soddisfatti nel senso che pensavamo che l'asfaltatura prevedeva tutta la strada. Invece hanno fatto 4-500 metri da una parte e 4-500 metri di là e da noi niente. A questo punto mi viene pensato che ci sono cittadini di serie A e serie B e che a qualcuno non gli frega niente. Speriamo che la Giunta Comunale preveda che prima che succeda qualcosa, qualche incidente o qualcuno che si faccia veramente male, prendano dei provvedimenti. E allora vi ricordo il numero WhatsApp per le vostre segnalazioni 370-366-7210. Ma continuiamo con le segnalazioni. Da Montelabate ci spostiamo a Pesaro perché non mancano anche in questa città alcuni cantieri sospesi. Questa foto, segnalata da un cittadino infatti, ci mostra come Piazza Redi sia da mesi alle prese con impalcature che aumentano lo stato di incuria dei portici. Da Piazza Redi a Piazzale Primo Maggio, un'altra nostra telespettatrice invece ci ha inviato questa foto che mostra l'ennesima crepa in un marciapiede sempre più dissestato. Da oggi è possibile presentare la richiesta per ottenere la fornitura gratuita o semi-gratuita di libri di testo per l'anno scolastico 2020-2021. Il Comune di Pesaro ha approvato il bando per l'erogazione dei contributi destinati agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, il cui indicatore di situazione economica equivalente non sia superiore a 10.632,94 euro. Per fare richiesta, attenzione, è necessario compilare il modulo disponibile all'interno del sito www.comune.pesaro.pu.it nelle segreterie delle scuole e allo sportello in forma ai servizi del Comune. Durante la 19esima edizione del Career Day, l'Università di Urbino ha premiato i suoi studenti capolavoro, ovvero quei laureati che usciti dall'Etaneo si sono distinti per successo nelle loro attività professionali. Nell'occasione sono stati premiati Eleonora Borromeo, Luca San Micheli, Roberta Francesconi, Massimo Mezzabotta, Simonetta Grassi e Mario Campana. Domani la provincia di Pesaro Urbino sarà attraversata dalla 38esima edizione di Mille Miglia che rievoca la storica corsa tenutasi fra il 1927 e il 1957. Dopo il rinvio di maggio dovuto al coronavirus, la corsa è partita proprio oggi da Brescia con 400 auto d'epoca che domani mattina passeranno per Mercatino Conca, auditore, arrivando a Urbino alle 8.30. La corsa transiterà poi per le Cesane e attraverserà Fossombrone, la Gola del Furlo, a Qualagna, Cagli per poi arrivare a Pergola alle 10.30 e proseguire verso la provincia anconetana. Ultimi appuntamenti per la 73esima edizione del Festival GAD. Domani alle 21 è in programma il penultimo degli otto spettacoli in concorso. Al Teatro Rossini andrà in scena la grande occasione del Fiatar Degart di Giardini Naxos. Sabato, sempre alle 21, chiuderà il concorso Il Sogno di Domenico della compagnia Colpo di Maschera di Fasano. Grande musica per pochi strumenti. Con questo slogan è pronta a partire la prima stagione concertistica della Hunderkammer Orchestra. Sei appuntamenti al Teatro Rossini che ci vengono illustrati dal presidente Stefano Gottin. Facciamo il possibile, bisogna anche guardare con fiducia al presente e va da sé anche al futuro. Ragion per cui cerchiamo di fare tutto ciò che è possibile fare. Confidiamo evidentemente non solo nell'appoggio delle istituzioni come la Regione Marche, il Comune, Amat. Già questo apporto c'è ed è sensibilmente apprezzabile, molto positivo e ringraziamo per questo. Come ringraziamo gli sponsor? Speriamo di una risposta del pubblico che non venga troppo ossessionato dal tam tam continuo che effettivamente, con questo non voglio dire che si è destituito di fondamento ciò che accade perché di tutta evidenza che la situazione è quella che è, presenta una pericolosità è proprio evidente, palmare direi, però è anche necessario e opportuno tenere la gente relativamente tranquilla. Ecco, quindi bisogna andare avanti. Ecco, noi cerchiamo di mandare un messaggio di fiducia in questo senso. Il nostro cartellone prevede come prima uscita un concerto tutto dedicato a Beethoven che mi permetto di dire sarà molto originale come programma, poi sentiremo meglio nel corso della conferenza stampa e chiuderemo sempre con Beethoven in maggio con il quinto concerto in trascrizione Wunderkammer da parte del maestro Marzocchi che suonerà e poi faremo anche la quarta sinfonia di Beethoven. E poi abbiamo un mix di appuntamenti che in qualche modo ricalcano quella che è la nostra attività anche extra concertistica. Mi riferisco al concerto per i 40 anni di carriera di Bruno De Simone, al baritone Bruno De Simone, che è stato qui appeso a ben 5 produzioni della ROF in anni passati e ultimamente è venuto come docente insieme alla moglie Alessandra Rossi nelle masterclass che abbiamo effettuato a Villa Pavarotti. Poi avremo il quartetto Mirus, avremo l'ensemble Locatelli con Alessandra Visentin in un concerto tutto barocco e poi se non erro un concerto di Marco Vergini, un concerto conferenza celebrativo di Dante Alighieri. Ed ora andiamo a parlare di sport, del turno infrasettimanale Amaro per Vispesaro e Alma Fano, entrambe sconfitte ieri sera nella sesta giornata di Serie C. Dopo due turni utili la Vis ha perso al Benelli 1-0 con la Triestina. Ha deciso la partita un gol di Litteri sul finire del primo tempo che ha punito una buona Vis oltre i propri demeriti. Preoccupante invece la situazione del Fano che ha perso 3-0 a Cesena, subendo tre gol nella prima mezz'ora e incappando nella terza sconfitta consecutiva dopo i tre pareggi con cui aveva inaugurato il torneo. La classifica vede ora la Vis quintultima con 5 punti e il Fano terzultimo con 3 punti. Domenica alle ore 15 il Fano ospiterà il Mantova, mentre alle 17.30 la Vis sarà in trasferta a Perugia. Giovedì scorso nel nostro telegiornale abbiamo iniziato a solleticarvi il palato con i consigli del nostro chef Daniele Patti. Ora andiamo avanti e scopriamo quale piatto ci prepara questa sera. Buonasera, io sono Daniele Patti del ristorante Lo Scudiero. Questa già abbiamo preparato calamaretto spillo, ripieno di calamaretto, mango, cetriolo, ai semi di finocchio e maionese di bottarga e lime. I calamaretti sono i calamaretti del mare Adriatico che vengono puliti uno ad uno e vengono eviscerati e recuperiamo la testa che a parte la battiamo, la scottiamo in padella con un fondo di olio, aglio e peperoncino, li facciamo, li frulliamo al bimbi inserendo pan grattato, un po' di formaggio e buccia di limone. Con questo ripieno andiamo a riempire uno ad uno i nostri calamaretti. Li infilziamo nel classico spiedino del nostro territorio che poi andranno cotti al carbone conditi con un po' di olio, aglio, sale e pepe. A parte prepariamo una maionese con all'interno bottarga e buccia di lime. L'insalata che abbiamo preparato per accompagnare il piatto è formata da due ingredienti principali, uno è il mango che ci va a dare dolcezza e l'altro è il cetriolo. Il cetriolo a sua volta viene condito con semi di finocchie tostati, sale maldon e olio. Questo serve a dare un'acidità e un contrasto importante al piatto. Questo calamaretti ricorda un po' le mie origini, la mia infanzia, quando mia mamma preparava i totani ripieni, tipico piatto siciliano che interpretiamo in questa versione. Inseriamo anche un po' di fiori di aglio per dare appunto quel sapore territoriale che ci contraddistingue marchigiano, romagnolo, adriatico. Buona serata e questo è il mio piatto con calamaretto, ripieno di calamaretti, mango, cetriolo e semi di finocchio e maionese al lime. Eccoci arrivati allora alla fine del nostro telegiornale. Vi ricordo che se volete vedere le repliche del nostro telegiornale potete andare sul nostro sito www.rossinitv.it Mentre questa sera alle 21.15 vediamo su Rossini TV il teatro, una bellissima, divertentissima commedia che è stata rappresentata nelle scorse edizioni del GAD Festival, un'improbabile storia d'amore. Veramente non perdetevi questo appuntamento alle 21.15. Mentre domani mattina vi aspetta Daniele Sacchi con la rassegna stampa alle 7.20. Io vi auguro buona serata, adesso per voi il meteo.